di green verde ambiente natura ecologia eco ambientalismo ambientalismo economia green ecologia green verde green 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 si è parlato tanto e ci si è lamentati tanto ma credo che ormai siamo arrivati al punto in cui si può anche evitare di lamentarsi di una cosa del genere e provare ad analizzarla io sono francesco e questo è giardino rivelato e mi che tentiamo sempre di analizzare un po le cose i detrattori di tutti questi argomenti che noi mettiamo sotto il termine ombrello di green di solito dicono che basta il buon senso ora io non so se basti il buon senso penso però che si possa riflettere in realtà io stavo riflettendo a questa cosa perché questa è una settimana un po particolare infatti questa settimana il podcast compierà un anno un anno di podcast pubblicati ogni mercoledì per parlare di giardini natura paesaggio piante botanica storia dei giardini storia del paesaggio città e tutte queste cose cose delle quali sarebbe stato parecchio difficile parlare se non ci fosse stato un dialogo con tutti gli ascoltatori che sono interlocutori molto più che ascoltatori perché come ho detto spesso si tratta di un dialogo asincrono magari c'è una persona che parla un'altra che ascolta capisce allora commenta e dice sono d'accordo non sono d'accordo e allora magari si risponde e si crea dialogo insomma è l'unico modo in cui io so parlare almeno l'unico modo in cui so parlare è se c'è qualcuno che ascolta che vuole ascoltare che è interessato e che magari mi corregge se sbaglio e così si cresce insieme e crescono anche gli argomenti insomma tutti questi termini di cui parlavamo all'inizio in qualche modo abbracciano quello di cui stiamo parlando voglio dire basta pensare al fatto che noi definiamo pollice verde una persona che è portata al giardinaggio oppure a cosa è portata al non far morire le piante insomma un termine un po vago e proprio perché si tratta di un termine vago allora vagamente lo utilizziamo per parlare di tutto il resto prendiamo gli alberi quando per esempio vediamo che viene abbattuto un albero nelle nostre città in molti casi ci indigniamo ci arrabbiamo perché diciamo ma come il mondo va a scatafascio bisogna piantare più alberi e voi abbattete questi alberi ora fermo restando che purtroppo in molti dei nostri territori molte delle nostre città non c'è attenzione alle questioni che riguardano gli alberi non c'è una conoscenza dell'arboricoltura non c'è un'attenzione un interesse verso la salute delle piante questo non significa che a prescindere un albero debba rimanere in piedi a tutti i costi mettiamo ad esempio che un albero è stato tenuto miseramente nel corso della sua esistenza è stato capitozzato non è stato curato nel caso di infezioni di attacchi fungini di malattie di qualunque tipo di attacchi di parassiti e ora quell'albero sia pericolante in un posto in cui passano tante persone a meno che non esistano modi per curarlo beh è una scelta politica in qualche modo sana quella di abbatterlo laddove i benefici che quest'albero produce sono di molto inferiore al rischio che possa produrre qualche danno se quello stesso albero si trovasse in una pianura deserta in cui nessuno cammina allora beh sarebbe sciocco abbatterlo perché sarebbe anche una spesa inutile da quel punto di vista non solo esistono alberi infestanti che devastano tutto il nostro continente non solo prendiamo la robinia prendiamo l'ailanto delle piante che si riproducono molto più velocemente delle nostre specie autoctone e non ne faccio un discorso di orgoglio di appartenenza proprio una questione di equilibrio dell'ecosistema ci sono delle piante che sono molto invasive e che noi trattiamo come se fossero degli alberi qualunque ma in realtà non è così quel verde che noi vediamo simile tra le foglie di due specie che possono essere una quercia e un ailanto poi dipende quale quercia ovviamente sono entrambi colore verde ma sono verde che manifestano qualcosa di differente faccio un esempio un altro esempio il basilico che sul quale abbiamo fatto una puntata qualche settimana fa e che da noi viene accudito con grande cura perché sappiamo che non riesce a superare l'inverno nella maggior parte dei casi in italia beh in australia è diventato una pianta invasiva che ha creato dei problemi ecologici quindi è chiaro che ogni cosa va portata nel suo contesto e quindi noi sotto questo termine di green pensiamo a quello che magari percepiamo nel momento in cui camminiamo nel bosco e lo spalmiamo senza discriminazione sulla economia su una semplice scelta che può essere per esempio il modo di gestire il riscaldamento dentro casa sull'utilizzo di un materiale magari esiste un cemento che viene sponsorizzato come green e quindi allora noi automaticamente trasferiamo le proprietà di questo verde clorofilloso delle foglie su questo materiale se pensiamo al fatto che la stessa etichetta dei prodotti biologici è verde come se l'agricoltura tradizionale non fosse anche verde però alla fine qual è la differenza tra un prodotto biologico e un prodotto tradizionale semplicemente si tratta spesso di prodotti ottenuti con pratiche praticamente identiche ma con utilizzo di principi attivi di sostanze di fitofarmaci di medicina insomma che sono originati da sostanze diverse per esempio invece l'agricoltura che si basa sulla minima lavorazione sul pratiche che tentano di modificare il meno possibile la situazione dell'agro ecosistema in cui andiamo a lavorare viene chiamata in italia agricoltura blu agricoltura conservativa e poi esiste l'agricoltura biodinamica che è una pratica molto controversa che in qualche modo viene sempre messa sotto il grande cappello del termine green e poi pensiamo al paesaggio e pensiamo che il paesaggio è verde quando per legge in europa il paesaggio in realtà è tutto anche una città è paesaggio e l'ambiente anche l'ambiente è verde ma l'ambiente può essere anche il deserto e l'ambiente è diverso dal paesaggio e il giardino il giardino è verde il giardino ha gli stessi problemi delle nostre città della nostra agricoltura il giardino riflette il modo in cui noi lo curiamo un giardino fatto quasi unicamente di piante esotiche è davvero un giardino verde tenendo conto che la maggior parte dei nostri giardini delle nostre piante ornamentali sono piante esotiche sono spesso piante invasive prendiamo la budleia una pianta stupenda però crea un sacco di problemi la mimosa è una pianta che se fiorisce diffonde il suo polline molto probabilmente rischiamo di trovarla a formare boschetti non distante da dove l'abbiamo piantata ma quindi cosa ci vuoi dire francesco vuoi dire forse che non dobbiamo più usare questi termini non lo so io non credo di essere in grado di poter stabilire quali sia la pratica linguistica migliore per riferirsi a determinate cose so che quando si parla di green si parla di una marea di cose differenti e le pratiche green in agricoltura sono diverse da un'economia green che il basso impatto ambientale è un modo di intendere il proprio modo di lavorare e che cambia ovviamente se applicato a diversi campi cambia se applicato al giardinaggio rispetto all'economia finanziaria però si parla di finanza green anche e quindi questo ovviamente non può essere paragonato a un qualcosa che è del tutto differente però un'idea ce l'ho e cioè la prossima volta che leggi un articolo che parla di idee green di soluzioni green o di economia green o green economy dipende ovviamente se ti interessa solo se ti interessa prima di andare a leggere oppure dopo aver letto oppure prima e dopo domandati perché è stato definito green è stato definito green per un valido motivo si riferisce a un qualcosa di ben definito oppure è stato chiamato green solo per pigrizia può essere e non me la prendo con chi chiama le cose green solo per pigrizia penso solo che se ne debba parlare di più e soprattutto le persone a cui sta a cuore dovrebbero discuterne ma non perché sia obbligatorio discuterne più che altro perché se ti interessa e se ti interessa che le cose vengano dette in un certo modo allora più se ne parla e più probabilmente si riuscirà a ottenere un vocabolario corretto ma corretto nel senso che rispecchia il modo che le persone hanno di percepire quella cosa che non crea confusione e proprio per evitare di creare ulteriore confusione siamo arrivati alla fine di questo episodio il 64esimo il 64esimo insieme il 64esimo a parlare di tutte queste cose che probabilmente alla fine di questa puntata possiamo definire green e quindi grazie grazie per aver passato questo tempo insieme continueremo a passarne ti invito a raggiungerci su giardino rivelato punto it e così possiamo rimanere in contatto grazie per l'ascolto e al prossimo episodio